E' mancato un po' più di attenzione in difesa perché comunque l'attacco ci stavamo, abbiamo sbagliato anche l'attacco ma soprattutto sul piano difensivo dovevamo migliorare un po' di più alcuni aspetti. Tutto sommato è andata così, il punteggio è questo, dovevamo vincere per puntare almeno ai playoff però ora non possiamo fare tanto. Adesso si va a Savona, l'ultima speranza, ci credete ancora a questa possibilità comunque di raggiungere i playoff? Sì ci crediamo però comunque è una sfida difficile, è un campo difficile, è un punter fuori casa, quindi noi ci proviamo, questa settimana ci alleniamo al massimo, il nostro obiettivo è vincere, andiamo là e vediamo come va.